E io a quella scena voglio fare un discorso a tutti. La prima è che non ho mai studiato economia e commercio a Roma. Sono laureato in lettere da un anno. La cosa importante, Antonio, è che sono gay. Scusate, scusate tutti. Scusate tutti, 30 anni ho buttato a nascondermi. Sono gay. E tu guardala dal lato positivo. Qualcuno ti ha spianato la strada, adesso in famiglia conoscono già l'argomento. Cretino, ma che cazzo dici? Mio padre è finito in ospedale con un figlio frocio. Se arriviamo a tuo lo mandiamo direttamente sottoterra. Il dottore dice che bisogna tornare alla normalità prima possibile. Sì, normalità, che brutta parola. Una bella ragazza, eh? E si vede che sta cercando l'uomo giusto, no? Tommaso. Hai visto che bella sorpresa? I tuoi amici di Roma. Ciao, bello. Ciao. I am lady. Non se ne sono accorti, ti dico. Hello stranger, you're a danger. Do the law, I know. Scusate, è una zanzara. Ti ho detto? Ad avvicinarmi agli altri, tengo tutti a distanza. Ti ho letto che la metà della popolazione italiana è bisessuale. Oddio! Questa parola non la voglio più sentire. E' meglio che ti abiti. Com'è brutta la calunnia, mamma mia. Troia. Soccola. Only tonight.